Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Miss Creted Come al solito io sono Amor Scimidal, benvenuto in questo nuovissimo video Amici guardate che bello, solo che bella, non bello, bello, bella La pagina iniziale di Miss Creted, questo, si vedono questi effetti, questa musichetta Che accompagna il gioco da quando è uscito, pensate, fantastico Amici direi che siamo pronti, vi ricordo di lasciare un mi piace, un like, un commento E una condivisione, iscrivervi al canale ovviamente, ci vediamo subitissimo in game Ed eccoci in game amici, sono qua con in mano la mappa Mi avete detto che dovrei essere nell'angolo in basso a sinistra, c'è un commento ha detto così Però io non capisco sinceramente perché qua c'è scritto Ah no, attenzione, attenzione, mi sono accorto adesso Aveva ragione il commento perché Orishow Beach è in effetti, è un po', si vede male Però sostanzialmente la trovate, guardate, nell'angolo in basso a sinistra Ma attualmente adesso in mezzo allo schermo c'è Orishow Beach Quindi da questa parte qua Quindi invece dalla parte in su si va verso Saltamping Crest Saltamping Crest che sembra essere una piccola cittadina Quindi io andrei da questa parte qua Poi vediamo in base anche alle cose che troviamo Se magari troviamo qualcosa di interessante Superiamo questo ponte che è veramente una casetta là in fondo In fondo abbiamo una casetta C'è in mano, perché c'è in mano una lampada? C'è la lampada, dammi in mano questa che non si sa mai Attraversiamo questo ponte un po' spettrale Però guardate, la grafica è fatta benissimo Vi ricordo che è uscita anche l'Alfa 17 di Seven Days to Die Trovate ovviamente nel canale i video Quindi se non l'avete visto andate a vederla E mi piacerebbe che Seven Days to Die avesse questa grafica qua Sinceramente, perché è veramente eccezionale Guardate qua Guardate come anche i particolari sono curati Ora qua c'è quello che Che cavolo è? Sento Sento un rumore Ora va a essere passata tipo Una macchina Ma non vedo macchine O una barca Ma non vedo barche Ho sentito tipo un clacson Non so se l'avete sentito anche voi Stavo dicendo qua ci sono Ovviamente questi guanti Però in realtà non abbiamo spazio per tenerli E soprattutto una cosa brutta Che non mi piace tanto È che non vediamo la resistenza di questi guanti Purtroppo Però va bene Ok Piccola nota Siamo Cose che si possono correggere ovviamente Andiamo a vedere qua Cosa c'è di altro Se troviamo altro Qua Ok Qua c'è una roba rotta C'è marcia Qua Qua niente di che Andiamo da questa parte qua Guardiamo qua Mamma mia il ponte Crollato fa un po' De long dark Questa è la macchina della polizia Bruciata Cioè Guardate la macchina della polizia Bruciata E c'è Una fottuta Arma Cosa è quella che spara dardi È quella che spara dardi Solo che Abbiamo L'inventario è pieno E qua Posso spostare Adesso può prenderla No Perché l'inventario è pieno E in realtà non riuscivo a prendere i dardi Perché In effetti L'arma potevamo prenderla Ma i dardi no Ho visto già una roba bellissima E al numero 4 Questa bellissima arma Possiamo caricare Mamma mia È la spara dardi Ok che Non ce ne facciamo molto Ma una spara dardi Comunque se incontriamo qualcuno Possiamo almeno fargli paura Abbiamo solo dardo Quindi Una buona mira Guardate qua cosa avevo visto Oh 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 Amici Oh 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 Vai vai via Vai via Tira fuori l'arma Dov'è l'arma? Dov'è cavolo è l'arma? Dov'è l'arma che non la vedo? Ma che cavolo è? Vai sopra qua Vai sopra qua Sperando che magari Guardatelo Oh Preso Ok abbiamo lanciato Ci lancia le pietre il maledetto Il maledetto ci lancia le pietre? Guardate Che cavolo Che cavolo fai? Maledetto Oh là Cerchiamo cosa ha Una soda Però ci ha fatto un po' male Leggermente male Abbiamo 77% di vita Comunque è fantastico L'arma d'ardi fa schifo Oppure Ci ha aiutato Ma non lo sapremo mai Però Questo infetto qua Che abbiamo visto Ci ha subito Sentito E ce n'è un altro Sento Eccolo là No No E che cavolo Adesso scopriremo subito se Scopriremo subito se L'arma d'ardi fa qualcosa Perché cos'è? Una concentrazione di infetti? È il ponte maledetto qui Preso Anche qua bisogna Prendere un po' il ritmo E prendo Ok No vabbè L'arma d'ardi Faceva schifo Non ha fatto niente E io volevo far vedere questo qua Il ponte maledetto Amici Guardate Il fottuto ponte maledetto Guardate qua Il ponte maledetto Mamma mia Che Spettacolo Spettacolare Oh Andiamo qua a vedere se troviamo qualcosa Di interessante Visto dopo quello che abbiamo fatto Non c'è niente ma Mamma mia Che particolare Che ha questo gioco Anche mutanti Direi fatti bene Perché Comunque Le animazioni non sono malvagie E qua abbiamo Non so cosa sia Da proprio L'idea dell'abbandono Cioè del fatto che comunque Un qualcuno Ma qua possiamo cercare se ci sono delle monete Un qualcuno Anzi qualcosa Si è successo E qualcuno Si è un po' Cioè si è dovuto scappare Qualcosa si è andato molto male Molto molto male Chissà se ne sapremo di più Del gioco E qua abbiamo L'inventario L'inventario Cioè la possibilità Di mettere Roba nell'inventario E tipo questo Se lo metto Non posso metterlo Però no No Attenzione Questo è un distributore Probabilmente Che ci permette Di recuperare Tramite dei punti Qualcosa Credo Fantastico Con il logo di Steam Ma anche Va bene Credo che qua ci sia scritto qualcosa Enjoy Amalgamate Corp Secure Nuclear Shelter Fa riferimento anche Ai L'abbiamo visto Con lo scarafaggio Anche Ai vari Fallout E un po' Ci prende spunto Sul Mondo Post-apocalittico Però Io Continerei Ad andare Dritto Che c'è qua Qua Molto bene Allora Via questo Che purtroppo Non ce ne facciamo nulla Però Prendiamo questo Prendiamo le munizioni Mamma mia Abbiamo trovato Armi Di una potenza Devastante Attenzione Attenzione Amici Abbiamo Altre cose Mutanti Facca Voglia Erano Dei ragni Infatti E sta anche Pio Ma cosa è bello Quando piove Ma quanto è bello Anche quando piove Get out of Get out of here Scritto fuori dalla casa Ma c'era Guardate Un caschetto Non accendo la luce Perché il passare Dalla luce Tomato juice Ma chi se ne frega Il succo di pomodoro Ma Anche Un fottuto Ragnetto Radioattivo Mutante Ragnetto Che poi era un ragnone Esplosivo Luci Lampeggianti Ancora Funzionanti E fa anche rima E mentre affronto Un altro ponte Vi faccio E vi parlo Anche Un po' Del crafting Cosa che a me Non mi soddisfa Il crafting Di questo gioco Non mi ha mai Soddisfatto Però Ve lo illustro Un attimo Mamma mia Che Bello Anche quando piove E i ponti Se ci fate caso Sono Pressoché Identici Graficamente Parlando Cioè nel senso Di layout Diciamo A quelli di Seven days to die Sono molto Molto identici Nelle macchine Bisogna controllare Anche nei sedili Perché è facile Nei sedili Trovare qualcosa Tipo vedete Là c'è un'accetta C'è pure un braccio Che esce da qui Non ho idea Di chi possa Aver messo qui Un braccio Comunque c'è un braccio Oddio Un braccio Che esce da Che cosa è successo Guardate qua C'è un piccone Ad esempio Piccone potrebbe Far comodo Se Decisamente Sì Abbiamo piccone Ascia Fantastico Possiamo giocare A minecraft Stavo dicendo Intanto che guardo Il cartello Però la nostra direzione Comunque sarà Sempre andare dritto A questo punto Vudeven Qua Vudeven Sarebbe Non Vudeven Vudeven E qua C'è qualcosa Qua Sì Anti-rad Mushroom Cioè Sono praticamente Dei funghi Dei funghi Contro la radiazze Consumiamo Questo Per quale mai Ragione Però vorrei Consumarli Use item Forse mi sono Ammalato Forse non erano Anti-radiazioni Perché C'è il simbolo Della Della morte Il personaggio È stanco Probabilmente A sonno Lo vedete anche Dal Da questo effetto Qua Però stavo dicendo Nell'inventario Welcome to Sultan Nell'inventario Andiamo a vederlo C'è questo crafting Crafting dove Possiamo Da questa parte qua Fare tipo Pelle Consumabili E quant'altro E all'interno ci sono Degli altri menu È una cosa che Non mi piace Perché dovete Star qua Cercare una cosa Bababà Non è chiaro Subito In un menu Tutte le cose Come non è chiaro Cosa serva Cioè È scritto qua Ma non ci sono le Diciamo le icone Ad esempio Qua se uno vuole fare Dei backpacks Così serve Un rugs Un rope Dove la faccio La rope Qua Qua si fa ad esempio La rope Se voglio fare le Vabbè avete capito Se voglio fare le borse E quant'altro Ci serve un large bag Due rugs Cioè quindi È un po' Un inventario strano Ora il personaggio Vede tutto così Spero che gli passi Prima o poi Magari mangiando qualcosa Può No no Inspect no Consume Può fargli solo bene Mangiare Credo Però Ha bisogno Di andare a dormire Anche E sta vomitando Che schifo Sta vomitando Intanto è uscito fuori L'ha scritta Search Oh Abbiamo trovato Una roccia Quindi possiamo Recuperare le rocce Da terra Invece il personaggio Ha vomitato Sta decisamente Male Ma ora Sultan È da questa parte qua O dalla parte di sinistra Là E poi soprattutto Troverò un letto Vedete che È stato male Ha vomitato E ovviamente Ha perso Quello che era Purtroppo per lui E il mangiare E anche purtroppo per noi In effetti Perché Se lui non sta bene E ci vede sempre peggio Sembra Se lui non sta bene Noi non stiamo bene Qua nel gioco Perché si vede tutto strambo Oh là Qua vediamo se Mamma mia Qua ci sarebbe da perderci Le ore Solo A vedere Mi dà un po' fastidio Questa visione Un po' Brutta della roba Vedete che ha perso sia La fame Oh Questo è molto interessante Sia la fame Ma sia anche Purtroppo La sete Cioè la persa Nel senso che L'ha persa proprio Ok Abbiamo trovato delle scarpe Dei boots Fantastico E però Il problema è che Il personaggio Inizia a vedere Inizia Cioè non ha mai visto Bene Ma inizia a vedere Veramente strambo E allora A questo punto Beviti un energy Di ink Ok Ok che stanco Va bene Un'aspirina Cioè l'aspirina O l'anti rad pills Cioè Anti rad pills Cioè vuoi mettere Che non serva Il problema è che qua Allora Facciamo così Buttiamo un attimo Questa Alla faccia Cioè Anti rad pills Io me ne prendo una No 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 E sta vomitando Proviamo anche l'aspirina Cioè proviamole tutte Un'aspirina Vai Non è amico Magari con l'aspirina Magari con l'aspirina Può Puoi Puoi dire la tua Non può dire la sua Forse non può più dire la sua Volevo uno zaino Sinceramente Una cosa così Ma Un'altra delle cose Da assolutamente Trovare È Sicuramente No Questo non ce ne facciamo niente Qui non c'è niente Propantank Forse la possiamo fare esplodere Però è uscito qualcosa Non trovo più niente Perché c'è un sacco di roba Da esplorare ovviamente Però C'è niente Niente Stiamo negli armadietti Vuoto 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 Qua c'è una tanica Guardate Cioè Roba che se avessimo un veicolo Avremmo potuto riempire L'avevamo trovato Anche sinceramente Avevamo trovato la moto d'acqua Che secondo me era comodissima Per muoverci Magari un po' All'inizio Del gioco Questi non si possono fare qua Search the Trash Niente Trovata pure una batteria Ma ci sono degli rumori strani Ovviamente non ho uno zaino Perché non ho uno zaino Dovrei trovare uno zaino Allora Sultan Lì c'è un cartello che è scritto Welcome to Sultan Anche lì Quindi Sultan era sicuramente Da questa parte qua Vedete Sultan Vudeven E Pinkrest Brightmoor Da questa parte qua Mi piacerebbe trovare Un bello zaino Cosa che servirebbe O craftarlo E sinceramente Mi piacerebbe Militare Barret Non mi interessa E sinceramente Sistemare anche un po' La visione Perché qua Beh bello Il passeggero che era rimasto qua Un po' così Uh Altre pillole Vediamo Anti-rad pills E in effetti Hanno funzionato Le anti-rad pills Perché Allora Lui ha fame C'è la morte Non so se è stato il fungo Non so cosa diavolo Possa essere stato Però Trovare Green eggs Cargo short Allora Via le rocce Vai Green egg Ok Ma questo possiamo Oh Tearing two rags Però mi sa che Sì Ah no no Può farle Però può fare Adesso con due rags Cioè noi dovremmo fare Con due rags Un large bed Quindi se trovo Però in effetti Ehi Allo C'è Bello zaino Lo zaino giallo Wow Stavo trovando anche roba interessante Tra l'altro Lo zaino Fottutamente giallo Beh amici Cioè con lo zaino giallo Abbiamo fatto tutto In questa puntata Ci vediamo da schifo Devo capire ancora Se basterà dormire Ma lo scopriremo Nella prossima puntata Sempre se Rimaniamo Vivi Però Bevi un po' No Non c'è niente Bevi Non c'è niente Prima c'era troppe Tanti Uh Hurricane Stavolta possiamo Prenderla Possiamo Prenderla E via 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 Però amici Direi che per Questa puntata È tutto Mamma mia Il personaggio Sta Tutto giallo Un po' giallo e rosso Però ci piace così Il personaggio Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Un like Un commento Una condivisione Davo Luce Tutto E ci vediamo Al prossimo Fottuto Video Ciao a tutti Ciao a tutti